I rincari di energie e materie prime e la produzione industriale tra riduzioni di margini, rinvidi commesse e ricorso da ammortizzatori sociali. Rovette e componenti del direttivo della Prolox si sono dimessi e con il supporto dell'amministrazione comunale sono in corso incontri con l'obiettivo di definire un nuovo gruppo di lavoro. Turismo sostenibile avanti con il coinvolgimento dei territori attraverso il progetto Terre Alte del Sebino. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. I rincari di energia e materie prime si fanno sentire anche sulla produzione industriale, in particolare in un settore energivoro come quello metalmeccanico. Signali di preoccupazione si registrano anche sul nostro territorio bergamasco. Ne abbiamo parlato con il segretario generale della FIM CISL di Bergamo, Luca Nieri. Sì, arrivano segnali di preoccupazione dal settore metalmeccanico, dal mondo produttivo del nostro territorio. Sicuramente, noi abbiamo avuto un 2021 molto positivo, di forte ripresa, dove tutte le nostre aziende sicuramente ne hanno tratto beneficio. Il 2022 si apre sicuramente con tutta una serie di turbulenze, alcuni segnali di affanno che oggi stiamo riscontrando, dovuti principalmente innanzitutto alla scarsità delle materie prime che stanno condizionando le nostre imprese al problema dei semiconduttori e oggi più che mai al problema legato un po' ai costi dell'energia che stanno condizionando effettivamente le aziende sia in termini di acquisizione di volumi ma anche in termini sostanzialmente poi organizzativi. Alcune realtà stanno ricorrendo a strumenti anche per affrontare questa situazione. Ma allora, la situazione è abbastanza eterogenea, nel senso che noi abbiamo da una parte aziende che decidono comunque di rinunciare ad alcune commesse in quanto non riescono a ridistribuire il costo dell'energia sul cliente finale. Alcune le stanno spostando un po' più avanti confidando che l'intervento calmirante del governo possa dare qualche beneficio e altre addirittura oggi si trovano nelle condizioni di ricorrere agli ammortizzatori sociali proprio per effetto di quello che dicevo in precedenza, che stanno rinunciando agli ordinativi. Situazione veramente anomala, che da una parte non è nuova il problema dell'energia elettrica. Io credo che l'Italia sia sempre stato un paese che ha sempre avuto un tallone d'Achille e che negli anni sono sempre mancate delle vere e proprie politiche energetiche che oggi sostanzialmente paghiamo. Soprattutto io credo che si evidenzia quello che sta venendo avanti che è un po' un cambio di paradigma rispetto poi a tutta la globalizzazione. Se un tempo si pensava anche, soprattutto in un paese povero come il nostro, di materie prime, di poterle comunque acquisire dall'estero senza grossi problemi di costi, oggi questa cosa qua la stiamo pagando. Perché noi paghiamo l'energia, paghiamo sostanzialmente poi le materie prime e tutto questo poi si ripercuote, voglio dire, sulle nostre imprese ma anche sui lavoratori stessi. Perché l'aumento delle materie prime e della caro energia poi si trasforma in inflazione che poi la paghiamo un po' tutti quanti. Sabato pomeriggio a Rogno si è tenuto un incontro con il quale è stato fatto il punto sul progetto Terre Alte del Sebino volto alla definizione di proposte per un turismo sostenibile e che vede il coinvolgimento di diversi comuni, Bossico come Ente Capofila ma poi anche Costa Volpino, Fonteno, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina e Sovere. Ne abbiamo parlato con la referente scientifica, la professoressa Federica Burini, presidente del corso di laurea magistrale in Planning and Management of Tourist System all'Università degli Studi di Bergamo. Avete condiviso lo stato di avanzamento del progetto Terre Alte e si continua quindi a coinvolgere il territorio estendendo anche i vostri orizzonti. Sì, esatto. Quindi l'Università di Bergamo sta realizzando questo bellissimo progetto insieme a diversi comuni, otto comuni dell'Alto Sebino che riguardano Bossico, Rogno, Costa Volpino, Riva di Solto, Fonteno, Sovere, Solto Collina e insieme questi territori stanno costruendo con la guida dell'Università, con il coordinamento scientifico dell'Università un processo di riscoperta dei propri territori, dei propri saperi, delle proprie risorse per immaginare insieme delle strategie di sviluppo di itinerari, di visite e di turismo che intercettino anche delle imprenditorie e delle risorse locali di questi territori in rete in vista anche di appuntamenti importanti che ci saranno nei prossimi anni. Il lavoro è molto intenso ma sta creando una squadra davvero appassionata che include oltre a me come coordinatore scientifico anche dei neolaureati della nostra Università come Laura Terzi che sta facendo da project manager del progetto insieme a me il regista Antonio Iorio che si sta occupando della parte di realizzazione di tutti i video documentali di queste terre alte e l'ingegnere Filippo Gagliano che sta realizzando insieme a me il mapping digitale delle risorse di tutto questo ampio territorio che mostra delle grandi ricchezze che si articolano su tre grandi tematiche che sono i paesaggi naturalistici e quindi tutta la geomorfologia e la naturalità di queste terre la seconda invece che riguarda tutti i saperi agrosilvopastorali e la terza invece che riguarda tutto il costruito quindi il patrimonio religioso, civile, storico ma anche produttivo di questo ampio territorio di cui appunto ci hanno parlato i diversi abitanti che noi abbiamo incontrato stiamo realizzando i prodotti quindi tutti questi video documentali e questi mapping saranno resi disponibili al pubblico quindi saranno messi a disposizione nel web affinché questi territori possano utilizzarli e fruirne in futuro anche a scopi educativi, formativi, scolastici che vadano proprio a costruire una cultura del territorio una cultura dei luoghi che abbia anche come obiettivo quello di sviluppare un turismo sostenibile ma il turismo non è l'ultimo obiettivo ma attraverso il turismo sviluppare un nuovo abitare un ritorno alle terre alte, allo sviluppo di nuova imprenditoria di nuovi lavori, di nuove professionalità che riescano a ripopolare questi territori di assoluto, di saluta importanza a livello paesaggistico e ambientale E ora proseguiamo con i dati di Regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus a fronte di 88.923 tamponi effettuati sono 7.099 nuovi positivi il rapporto è del 7,9% continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive meno 8 e nei reparti meno 111 i decessi 60 i nuovi casi positivi al coronavirus per provincia Bergamo 620 Brescia 992 E a Rovette il direttivo della Proloco si è dimesso e con il supporto dell'amministrazione comunale sono in corso incontri con l'obiettivo di definire un nuovo gruppo di lavoro La Proloco rovettese sta vivendo un momento di transizione Sì, come hai detto tu la Proloco è in una fase di cambiamento quindi gli attuali consiglieri della Proloco per motivi personali o comunque per altre motivazioni ha deciso di passare un po' il testimone quindi ci tengo innanzitutto a ringraziarli davvero tutti a partire dalla Presidente Brasile Orella e tutto il suo consiglio che hanno fatto un ciclo di ben 7 anni in Proloco e hanno portato avanti parecchie iniziative hanno riempito le stati estive per i residenti e per i turisti davvero in modo egregio quindi a nome mio a nome del sindaco e di tutta l'amministrazione ci tengo davvero di cuore a ringraziarli per ciò che di bello hanno fatto in questi 7 anni mettendo parecchio tempo e parecchio del loro impegno quindi adesso siamo in una fase di cambio di passaggio del testimone come dicevo prima abbiamo già iniziato una fase di incontri preliminari con alcune associazioni o categorie che sono coinvolti nel turismo continueremo a farle nei prossimi giorni quindi chiedo anche se qualcuno fosse interessato a fare qualcosa comunque per il paese siamo a disposizione le porte sono aperte per tutti quindi chi volesse si può mettere in contatto con me tramite l'ufficio a cui gli verrà dato il mio contatto e ci sentiamo e senza impegno affrontiamo delle riunioni dove cerchiamo di costruire una proloco magari anche duratura che porti il turismo a rovetta e tutto quanto Si sono già avvicinati alcuni giovani Sì, alcuni giovani hanno dimostrato interesse a entrare in questo gruppo quindi li stiamo veramente incontrando per capire anche come strutturarsi come preparare l'estate che ormai è alle porte perché anche se siamo a febbraio ma per organizzarlo si è già quasi in ritardo e niente davvero le porte aperte sono per tutti e ci teniamo alla proloco per il comune di Rovetta la proloco è un'associazione come altre importante ma per il turismo su Rovetta insieme alla sportiva di San Lorenzo sono due associazioni molto importanti quindi ci teniamo che questa associazione vada avanti e prosegue il suo lavoro sul paese e la proloco è una realtà che ha sempre un canale aperto con l'amministrazione comunale la proloco ha un canale aperto per l'amministrazione comunale è un'associazione molto importante noi la supportiamo come l'abbiamo sempre supportata in ogni situazione anche di difficoltà o comunque in fase organizzativa ha sempre il mio supporto il supporto del sindaco e di tutto il consiglio comunale perché crediamo in questa associazione e crediamo nel lavoro che fanno ora come ora i tempi non sono semplici per organizzare eventi ma credo che con un'amministrazione che appoggi questa associazione si possa rendere il lavoro un po' più sbrigativo e facile per i volontari principalmente è un soggetto che dovrà occuparsi dell'organizzazione e gestione di eventi si occupa un po' dell'organizzazione estiva della formazione del libretto di eventi in territorio rovettese e di coordinare un po' gli eventi anche di altre associazioni rovettese che comunque di loro iniziativa già organizzano quindi un po' una fase di coordinamento e organizzazione di eventi per tirare un filo conduttore durante tutta l'estate e andiamo ad Albino dove la piattaforma con cui sono stati raccolti fondi a sostegno delle iniziative culturali sviluppate nell'ambito dell'anno del Moroni verrà impiegata anche per sostenere altri progetti l'amministrazione comunale di Albino è in cerca di sponsor per due progetti culturali è stato pubblicato l'avviso proprio in questi giorni spieghiamo perché questa iniziativa come assessorato la cultura di Albino abbiamo sempre attivi parecchi progetti per cui già l'anno scorso con Moroni 500 abbiamo pubblicato questa manifestazione di interesse che rimarrà aperta fino al 2023 all'interno della quale poi noi andremo a caricare e andiamo tuttora a caricare dei progetti specifici per i quali noi stiamo raccogliendo delle sponsorizzazioni la manifestazione di interesse è aperta a soggetti pubblici a soggetti privati a enti associazioni per cui tutti coloro che sono interessati possono contribuire a un progetto specifico attualmente sono attivi due progetti per raccolta sponsorizzazioni che sono Albino Classica che oramai ha raggiunto la sua ventunesima edizione è una rassegna di musica classica che coinvolge non solo il comune di Albino che ospita quattro concerti più il convegno e la presentazione dell'intero programma ma coinvolge anche il comune di Nembro di Ranica di Cenate Sotto quindi è un progetto che va a spalmarsi anche su altre realtà e la finalità è quella di unire la musica classica con la conoscenza di luoghi di alto interesse di alto interesse culturale che ad Albino ci sono così come ci sono anche in altri comuni altro progetto che abbiamo attivo è la ristampa del volume edito nel 2015 dal titolo Giovanni Battista Moroni l'uomo e l'artista di Giampiero Tiraboschi anche questo volume era stato stampato nel 2015 con tutte le iniziative di Moroni 500 sono state vendute praticamente tantissime coppie stiamo pensando a una riedizione e quindi abbiamo caricato anche questo questo progetto sulla nostra manifestazione di interesse in modo tale che se qualcuno è interessato a sostenere economicamente a sponsorizzare questi progetti che hanno una rilevanza anche a livello di pubblicità eccetera possono contribuire a quella che è la vita culturale di Albino la manifestazione di interesse parte proprio dall'esigenza che come assessorato la cultura come sistema bibliotecario e come biblioteca abbiamo di avere a disposizione fondi che ci permettono di continuare a promuovere e promuovere anche nuove iniziative perché si sa benissimo in Italia la cultura non sempre viene valorizzata come si dovrebbe e quindi con queste modalità così come può essere anche l'Art Bonus si cerca di captare all'interno della cittadinanza anche del settore privato interesse e rispetto a determinati progetti infatti stiamo valutando anche l'eventualità di aprire una posizione anche all'interno del Ministro dei Beni Culturali con l'Art Bonus perché abbiamo ancora in pista anche dei progetti per i quali abbiamo partecipato dei bandi che sono dei progetti molto costosi e fondamentalmente il Comune di Albino non ha poi la forza di sostenere questi progetti da solo quindi si cercano dei partner e la comunità montana dei laghi bergamaschi ha pubblicato un avviso relativo alla selezione di accompagnatori guide naturalistiche per la Valle del Freddo ne abbiamo parlato con il direttore della riserva della Valle del Freddo Silvano Fusari in questi giorni sta per essere aperta la selezione per le persone che fossero interessate a diventare guide naturalistiche per la Valle del Freddo ci può un po' introdurre a questo progetto? Sì allora noi gestiamo la riserva naturale Valle del Freddo da alcuni anni e abbiamo la necessità di individuare delle persone che durante il periodo di apertura della Valle del Freddo quindi maggio giugno luglio accompagnino nel periodo di apertura le persone quindi individuare delle persone che verranno poi formate e faranno gli accompagnatori il sabato la domenica e durante la settimana per le scuole oppure per gruppi organizzati è prevista un'attività anche di formazione? Sì esattamente quindi faremo una selezione dopo la presentazione delle domande e dei curriculum relativi e verranno formate da alcune nostre guardie esperte soprattutto dal presidente della commissione che si occupa della gestione della Valle del Freddo e quindi formeremo diciamo queste guide affinché riescano a trasmettere alle persone tutte le informazioni utili necessarie per apprezzare meglio la riserva della Valle del Freddo Si tratta di una vera e propria attività che prevede anche un compenso Sì esatto ecco diciamo non è un compenso dove nessuno si arricchirà però abbiamo previsto diciamo dei gettoni 40 euro la mattina il sabato mattina e 50 euro mi pare il pomeriggio quindi il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio ecco quindi abbiamo la necessità di avere un numero sufficiente di persone perché perché è un impegno di tre mesi tutti i weekend e tutti i festivi quindi ecco per evitare di avere poche guardie che quindi concentrano poche guide che concentrano diciamo in questi periodi tutte le attività avere più persone anche magari più giovani anche per una tornazione e un domani consentire queste persone diciamo di acquisire una specificità più accentuata la valle del freddo è una località che sta riscutendo un crescente interesse sì diciamo che per la verità è più un interesse di persone non locali ma che vengono da lontano ma anche molti stranieri che hanno riscoperto e quindi anche grazie a internet riescono a facilmente individuare la zona e abbiamo quindi anche la necessità di avere delle guide che sappiano almeno l'inglese o eventualmente anche il tedesco perché ci sono un sacco di stranieri che sono particolarmente interessati più di italiani locali vengono gli stranieri e soprattutto persone anche da lontano quindi Interlandi Bergamo Milano Lombardia in generale sì diciamo che è un fenomeno unico in Italia chiedo che ci sia un'altra zona non così valorizzata però è un fenomeno unico e particolare perché grazie all'alitazione diciamo di queste buche si creano dei microclimi particolari molto freddi molto rigidi dove all'intorno a queste buche o comunque in queste zone cresce una vegetazione unica tipica di alta montagna quindi alle classiche stelle alpine che tutti conosciamo e sono tipiche delle alte quote ma tutti i rododendri la bete bianco piuttosto che l'arice piante anche fiori che sono proprio caratteristiche di alta quota quindi non è che si trova una una foresta una vegetazione di alta quota però ci sono degli endemismi che crescono solo a determinate quote e lì grazie a queste temperature e a questo fenomeno fisico si crea un microclima tale per cui la flora cresce naturalmente quindi cresce semina germoglia si riproduce come come se fosse in alta quota e lì siamo a una quota di 300 metri circa sul livello del mare quindi questo è un fenomeno unico e particolare in Italia ora vi parliamo di un libro scritto da Mauro Bertoli un giovane di erogno che con questa pubblicazione intendere raccogliere fondi a favore delle persone colpite dal terremoto ecco siamo in collegamento con Mauro Bertoli autore di un libro che cerca quindi di costruire un rapporto tra il nostro territorio e Camerino ma come è nata l'idea di questo libro e soprattutto anche della sua finalità questo libro è nato innanzitutto da tutta un'altra idea nel senso che volevo fare i cento volevo festeggiare tra virgolette cento like alla mia pagina facebook e niente solo i miei amici di Ironia hanno accettato lanciandomi una traccia di questo libro dopo è cambiato tutto quanto nel 2016 in poi e da quella traccia lì è nato questo proprio libro qui che è per metà fantasia nel senso che l'ho deciso di inventare se è una pianta io metà invece è una tra virgolette lugubre verità perché particolarmente lugubre come trama e niente è un finale un po' sorpresa molto sorpresa e anche lo scopo è decisamente sorpresa perché nessuno si potrebbe aspettare come dico anche io nel titolo misteri arbatax il mistero che fa quando il mistero fa beneficenza perché appunto non ho mai letto che ci fosse un libro di misteri horror leggermente anche horror che sia scopo benefico per in quel caso i terremotati di Caramerino e c'è anche la volontà di costruire un progetto ancora più solido assolutamente sì la mia idea è quella di riuscire con un'associazione onlus benefica di riuscire a lanciare con questo libro e tanti altri futuri progetti di cui ho già in mente un altro progetto poter accogliere più fondi possibile non solo per Caramerino ma anche magari anche per altri paesi più bisognosi o comunque con meno contatti in questo momento con me ho lanciato Caramerino perché conoscevo già da quei tempi Carla Marsili un'ex docente della scuola L'Aquilone che appunto in questo momento è inagibile per il terremoto per colpa del terremoto e esattamente per colpa del terremoto ci siamo contattati avevo già fatto un paio di eventi di beneficenza e da lì ho deciso un po' prima di quel periodo l'Ave ho deciso di metterlo a questo scopo qui prendo l'occasione per ringraziare tantissimo non solo l'editore della Freccia d'Oro Edizioni che è appunto l'editore che ha che ha deciso di di lanciare questo libro più di pubblicare questo mio quinto libro che sarebbe il quinto libro ma ringrazio tantissimo anche lo ringrazio tantissimo anche per la pazienza che ho avuto perché l'ho tormentato per tanti mesi soprattutto in questi due anni qui e ringrazio di cuore veramente di gran cuore Rossana Consoli che sarebbe l'illustratrice che ha fatto delle bellissime illustrazioni ha ricevuto diversi complimenti grazie alla quale mi ha dato anche più speranza perché altrimenti avrei dovuto pagare giustamente l'illustratrice per poter fare un libro veramente di beneficenza e veramente con grande cuore da parte mia da parte sua e da parte dell'editore e ora proseguiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 84 di Antenna 2 alle ore 20 e 30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target alle ore 22 e 10 la rubrica Italia Economia alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23 e 15 Mai Regione alle 23 e 45 le transizioni del futuro il programma sull'innovazione tecnologica è alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario l'almanacco per domani sabato 12 febbraio il sole sorge alle 7 e 22 e tramonta alle 17 e 47 il culmine alle ore 12 e 34 la durata del giorno è di 10 ore e 25 minuti la luna sorge alle 13 e 15 e tramonta alle 5 e 55 di domenica la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 74% la chiesa ricorda Santa Eula e con questo è tutto vi ricordiamo che a seguire vi saranno la rubrica erbe e salute e le previsioni del tempo vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio